Buonasera dal TG Lazio, boom di contagi e bella a Farnia, nel Pontino diventa zona rossa come da ordinanza regionale. Lo screening dell'Asdla di Latina continua e si è pronti ad estendere le misure di contenimento qualora l'incidenza dovesse aumentare. Cominciamo da qui con Ilaria Dionisi, poi l'intervista al direttore sanitario dello Spallanzani Vaya che dice no a toni allarmistici sulla variante indiana. Dalle case si sentono arrivare i colpi di tosse, fuori restano solo i panni stesi. Sembra un borgo fantasma, bella a Farnia, ora zona rossa. Da questa frazione alle porte di Sabaudia, come da ordinanza regionale per i prossimi 15 giorni, non si entrerà né si uscirà se non per necessità. Sento che stanno preoccupati, come andavano a lavorare, come devono comportare. Le forze dell'ordine presidiano il Residence, un tempo meta di villeggiatura dei Romani, ora abitato da oltre mille sick. Il terrore dei contagi corre tra le casette bianche, oltre 500 i tamponi eseguiti, 84 i positivi, tanti, troppi e così è arrivata la stretta. È diventato opportuno porre in dad i nostri alunni per la prossima settimana e slittare i bagni al mare all'8 maggio. I sanitari della Croce Azzurra trasportano i positivi nei due Covid hotel individuati per l'isolamento. C'è Rasella ma c'è anche la domotica e cerchiamo di trovarne altre perché purtroppo i numeri sono in salita. Indagine epidemiologica dell'Asla di Latina continua pronti a estendere la zona rossa se l'incidenza dei casi dovesse aumentare. Fanno sapere dall'assessorata alla sanità i campioni sequenziati finora allo Spallanzani hanno dato esito negativo a nessuna variante indiana. Preoccupano però le migliaia di sick non censiti sfruttati in nero nei campi del Pontino e ammassati in piccole case. Il rischio è che sfuggano dai radar così come il virus.